Massimiliano Fedriga, lì è stato presentato i dati sulla disoccupazione, siamo sempre intorno al 43%. Quella giovanile è sempre allarmante, esattamente come quella generale. Questa è la dimostrazione dei fatti che le misure messe in campo dal governo Renzi sono assolutamente inesistenti. Anche qui promesse di affrontare il primo tema cruciale per i nostri cittadini, ovvero quella del mondo del lavoro, ma queste promesse non sono state assolutamente rispettate. Il governo pensa piuttosto ad andare in Europa a garantire più poltrone possibile per i propri rappresentanti, per i rappresentanti del Partito Democratico, ma se ne frega totalmente di chi sta vivendo il dramma della crisi nel nostro paese. Questi dati dovrebbero far emanare un decreto immediato al governo per mettere vere risorse a disposizione dell'occupazione. Questi dati dovrebbero far mettere in campo al governo quello che la Lega ha fatto con la raccolta firme sui territori, ovvero abrogare la riforma delle pensioni Fornero, che è stata una riforma che ha aumentato in maniera drammatica i dati in particolar modo sulla disoccupazione giovanile, non permettendo ricambio generazionale all'interno dei posti di lavoro.